Salve a tutti e benvenuti a questa nuova videostroncatura di Stroncando l'orrore. Questa volta ho scelto di preservare per qualche giorno la mia sanità mentale scegliendo un titolo che non è esattamente orribile come altri che abbiamo visto nei precedenti episodi. Ma non è neanche un capolavoro, sia chiaro. Non temete, non ho certo finito la lista di showfake inguardabili, anzi, è solo che ogni tanto un piccolo break ci vuole, non credete? E va bene, è stato lo psichiatra consigliarmi di andarci piano ogni tanto, va bene? Oggi parleremo di una pellicola prodata nel 1989 in Italia con il titolo La Casa 7, The Horror Show. La Casa 7! Allora, cercherò di essere chiaro. In seguito all'uscita e poi al successo di La Casa e La Casa 2 di Sam Raimi, alcuni distributori e registi italiani hanno deciso di battezzare e rinominare alcuni horror minori dando così vita a una carrellata di sequel apocrifi della serie La Casa che però in realtà non hanno nulla da spartire con la trilogia orbitante attorno alla figura di Ash Williams. Per questa ragione ancora oggi possiamo trovare sul mercato o in televisione la Casa 3, Ghost House di Umberto Lenzi, la Casa 4, Witchcraft di Fabrizio Laurenti e la Casa 5 di Claudio Fragasso. Da qui le cose si complicano. Nel 1986 Steve Miner ha diretto un horror pieno di pupazzoni, una pellicola intitolata House che in Italia è approdata con il titolo Chi è sepolto in quella casa. Successivamente viene prodotto House 2 ed i nostri geniali distributori scoprono tutto un colpo che House è traducibile come casa. Il problema è che La Casa 2 esisteva già, dunque ecco che approda sugli scaffali La Casa 6, La Casa di Ellen. Quindi ecco finalmente il nostro film, ovvero House 3 dei Horror Show, ergo La Casa 7, con tanto di locandina rubata al primo vero La Casa autentico. E se provate a effettuare una veloce ricerca, scoprirete che La Casa 5 è del 1990, mentre La Casa 7 è dell'89. Altro particolare un po' strano. House 3 è stato intitolato così perché a realizzarlo sono stati gli stessi produttori di House e House 2. Ma il fatto curioso è che House 3 non ha nulla da spartire con gli altri titoli della serie. In poche parole, House 3 è uno dei pochi film esistenti, se non forse l'unico, ad essere il sequel apocrifo di due saghe contemporaneamente. Ed io che volevo preservare la mia sanità mentale. Siete confusi? Bene, getto altra benzina sul fuoco. Nel 2007, La Casa 7, ovvero House 3, ovvero The Horror Show, è stato distribuito in Italia in DVD con il titolo La Casa 3. E in copertina c'è l'albergo di Psycho. Inizialmente, per La Casa 7, è stato assunto il regista David Blit, ma arrivati a circa metà delle riprese, è stato liquidato. Poco male, Blit si rifarà in futuro con capolavori come Red-Blooded American Girl, Wound e Mio Nonno Vampiro. No, davvero, quest'uomo non ne ha azzeccata una. Per completare così l'abominio di Blit, la produzione ha poi assunto James Isaac, il malefico regista che nel 2001 ha dato alla luce quello sgaborto di Jason X. Grandi premesse, eh? L'attore protagonista è Lance Erickson, veterano del cinema, apparso in una miriade di titoli, tra i quali Terminator e la saga di Alien a partire da Aliens Controfinale dell'86. Nel cast troviamo anche Brion James, altro attore dotato di un curriculum chilometrico che ha recitato in Blade Runner, il quinto elemento, e ancora 48 ore. Ah, c'è anche Dorothy Dee Dee Pfeiffer, celebrità famosa per essere la sorella minore della ben più nota Michelle Pfeiffer. Ma basta, ciance, partiamo col film. La casa 7 apre le danze in maniera un poco confusa. Lucas, il poliziotto protagonista del film, si sveglia nel cuore della notte e, a causa di alcuni rumori misteriosi, perlustra paranoicamente la casa, giungendo così nello scantinato. Osservando la caldaia accesa, rivive un flashback. Lucas ripensa quando, di recente, ha preso parte a una delicata operazione di polizia per arrestare Jenke, che è uno psicopatico assassino al quale dava la caccia da anni. Il protagonista ispeziona così lo stabile dove si troverebbe l'assassino. Perdonate l'interruzione, ma penso sia necessaria. La casa 7 ha una particolarità. È un po' splatter, e non parliamo di quello splatter carta pestoso tipico, non so, dei film giapponesi. Avvisati. Lucas gironzola per alcune cucine, addocchiando nell'ordine una mezza donna che sporge tremolante da un mega tritacarne, una mano fritta, una testa bollita, e schizzi di sangue distribuiti ad arte lungo le pareti. Chissà cosa farebbe lo chef Ramsay. Scapperei a gambe levate. Legittimo. Raggiungendo l'edificio adiacente, il poliziotto prima incontra il suo collega di colore senza più le braccia. Poi finalmente si confronta con Jenke, che, per l'occasione, si è portato dietro una bambina ostaggio. Attenzione, perché state per assistere a una scena moralmente discutibile intrisa di violenza gratuita. C'è di mezzo una bambina. Lucas e il killer danno vita a una conversazione cliché, ovvero al classico... Putta via quella pistola! Se non la liberi subito ti ammazzo. Jenke ha la meglio, ma non mantiene la parola e, di fronte allo sbirro disarmato, decapita l'ostaggio e lancia la testa al protagonista. Testa che non riesce a tenere gli occhi ben serrati. Lucas si risveglia e... quello che era partito come flashback si è rivelato un sogno. E non è finita! La moglie del protagonista si trasforma in killer platinette. Un altro sogno? No, questa volta si tratta di un'allucinazione del poliziotto. Allora, il protagonista si sveglia e sente dei rumori. Poi, fissa una caldaia, ha un flashback, si sveglia di nuovo, ha una visione e torna in sé. Ma era necessaria tutta sta roba caotica. Il mattino dopo, Lucas va ad assistere all'esecuzione di Jenke che, meglio sottolinearlo, non era uno psicopatico qualunque. Quella mannaia che ha ammietuto un numero incredibile di vittime. Il numero ufficiale di queste ultime, fornito dalla polizia, è purtroppo di 110. 110 vittime uccise con una mannaia? Cioè, nemmeno la Flech era visto così tanti morti. Ma passiamo alla prima vera scena madre della Casa 7. Il killer rimane uno psicotico malvagio fino all'ultimo, insultando chiunque gli capiti a tiro. A sorpresa, la prima scarica della sedia elettrica non si rivela sufficiente a uccidere la carogna. Quindi, percorso da una scossa da 5000 volt, Jenke si libera, cammina verso Lucas e gli lancia una maledizione. Ti porterò alla distruzione lentamente. Quindi muore, un super cattivo degli X-Men. Il tempo avanza indefinitivamente di qualche minuto o ora. All'obitorio, un professore di Dio Solo Sa Cosa ha il permesso di esaminare il cadavere di Jenke e assiste a questo. Lo stesso evento si ripete nello scantinato del protagonista. Si susseguono alcune scene strampalate. La moglie di Lucas si reca nello scantinato per cercare il gatto. Lo so che sei qui dentro. Scusa, ma perché il gatto dovrebbe trovarsi dentro un armadio metallico chiuso? Cioè, come c'è finito? Lasciamo perdere. La donna non si accorge della presenza di qualcuno dietro ad alcuni vestiti, ma viene sorpresa dalla caldaia che cava fuori dal nulla delle fiammate. Il bello è che quello che la stupisce non è tanto l'improvvisa accensione della caldaia, bensì il fatto che è fatto aprirsi. Lo sportello era aperto. Lucas incontra casualmente il professor chissà chi che, in maniera alquanto inquietante e frettolosa, lo avverte di un pericolo imminente. In realtà, lo spirito di Genke è ancora in circolazione. Con la sua fidanzato della figlia dello sbiro protagonista che si era nascosto apposta per incontrare l'amata. Quella sera stessa il fidanzato intraprendente sente la voce della ragazza senza riuscire a individuarla nello scantinato. Bonnie, dove sei? Ti sto guardando. Dai, smettila. Indovinate un po'? In realtà, altri non è che il nostro killer fantasma. Comunque, come è facile da immaginarsi, l'assassino uccide il fannullone. E ora che accadrà? Semplice. La ragazza si getta alla ricerca dell'ometto e non lo trova. Cerchiamo di non trascurare Lucas anche perché sta passando davvero dei brutti momenti. Infatti, lo sbirro sta perdendo la capoccia vedendo Genke dappertutto. E intendo dappertutto. Guarda, poliziotto, la tua famiglia è morta. scherzavo. Ora mi chiedo, cosa pensavano di trasmettere gli sceneggiatori con questa scena? Paura? Cioè, disgusto? Inquitudine? Colite? Uno spirito killer che comunica col protagonista infestando un tacchino. Nemmeno Infantagirò avrebbero accettato una cosa del genere. La famiglia si riunisce in salotto per guardare un comico in televisione. La voce che fuoriesce dall'apparecchio pare quella di Mino Caprio ovvero il doppiatore di Peter Griffin ma non avendo trovato conferme in rete non ufficializzo l'informazione. Lo farò stasera? Qui all'aeroporto ci stai già pensando tu? Eh no cacchio è lui. Beh, comunque sia il nostro incorreggibile Lucas comincia a vedere Genke anche in tv e per non spaventare i familiari visibilmente ignari di tutto decide di affrontare la questione in modo tranquillo e discreto. Immaginatevi Lucas alle prese con i programmi televisivi italiani contemporanei. scoppia il giallo della papera rapita dalle colonie di Repubblica una studentessa universitaria lancia e facesse il colore ma la 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 oggi ho detto si gioca a bocce non con le bocce abbiamo deciso non senza interno travaglio un eroe moderno ormai insicuro e mezzo impazzito Lucas decise di visitare la casa dove risiedeva Genke oltre a varia robaccia accatastata a caso lo sbiro trova una collezione di foto ed articoli che riguardano sia lui che la sua famiglia indizio che svela una certa ossessione dell'assassino nei confronti del poliziotto e a proposito di ossessioni indovinate chi passa in casa Genke per puro caso sì rieccolo il professore sono uno scienziato non è che cambi molto allora il nuovo amico di Lucas si decide a votare il sacco in breve spiega che secondo una sua strampalata teoria il male si manifesta come forza elettromagnetica fin qui ci siamo bene secondo punto della teoria la sedia elettrica ha permesso a Genke di elevarsi a un piano superiore di separare lo spirito dal corpo e di diventare più potente terzo punto il più affascinante per sconfiggere Genke bisogna colpirlo con un'altra potentissima scarica elettrica non viene spiegato altro dunque secondo questi dogmi il cattivone di turno è diventato un fantasma onnipotente inafferrabile ma una scossa potrebbe essergli fatale ora usiamo un attimo il cervello come si può colpire un fantasma con una scossa qualcosa che di fronte anche al più piccolo imprevisto può smaterializzarsi rimaterializzarsi sparire e riapparicchi alle spalle può cambiare la tua percezione della realtà farti fuori no torniamo al film la figlia di Lucas riceve una telefonata da parte del fidanzato poiché ancora ignora che fine abbia fatto la ragazza esegue alla lettera le istruzioni che le vengono fornite dal misterioso interlocutore ovvero scendere nello scantinato e raccogliere il portafogli che il ragazzo avrebbe dimenticato sulla caldaia ed effettivamente lo trova il portafogli è quello che rimane del ragazzo Lucas torna a casa e in quanto sospettato dell'omicidio viene giustamente arrestato nel frattempo il professor cialtrone sono uno scienziato quello che è continua a sfornare teorie strampalate e muore per mano di Genke sotto interrogatorio Lucas cerca di scagionarsi raccontando i presenti delle sue allucinazioni e delle teorie dello scienziato chissà perché non riesce a convincere nessuno sono stronzate ora ricomincia con il fantasma sgombrata la stanza Lucas incontra l'avvocato che avrà il compito di difenderlo in tribunale colpo di Cliccena l'avvocato è in realtà Genke sono tornato come vedi torniamo alla figlia di Lucas la ragazza riceve una telefonata maniacale da parte del killer sei un maniaco bastardo chi sei che cosa vuoi da me ma che te frega ma riattacca subito no parlando con un amico collega Lucas scopre che gli è stata negata la libertà provvisoria risolve il problema così ah e nessuno gli ha chiesto del tavolo spaccato sì sono incidenti che capitano in arrivo una scena strana la moglie di Lucas vede una bambina girare per casa cantando e invece di chiamarla o di parlarle di afferrarla per un braccio o altro la segue a passo lento fino allo scantinato qui scopriamo che la piccola misteriosa altri non è che la ragazzina che ha perso la testa per mano di Genke e che adora giocare con i gatti passaggio reso inutilmente più trash del dovuto il killer afferra la moglie di Lucas e la bacia mentre nel sottofondo sentiamo il lancinante miagolio di un gatto appena castrato Lucas finalmente torna a casa e per primo trova suo figlio morto vediamo quanto si dispera forse non era figlio suo altra stanza altra sorpresa Lucas trova sua figlia disperata a letto il problema è che la giovine è incinta del killer letteralmente questo è inquietante comunque nel petto di Lucas si apre una ferita e dopo aver barcollato per un po' il poliziotto perde i sensi quindi si risveglia là dove era crollato e la ferita non c'è più ma che senso ha sto delirio figlio morto e chi se ne frega figlia incinta con un assassino in grembo un petto che si squarcia per poi ricomporsi come se non fosse successo nulla uno svenimento casuale in dove vogliamo andare a parare proviamo a proseguire magari ci capiamo di più a salutare il poliziotto appena svegliato sono la figlia con un bambino in braccio e l'amatissimo figlio morto un attimo dopo spariscono no andiamo avanti e basta ci fermeremo quando assisteremo a qualcosa di sensato senza alcuna ragione Lucas provoca e insulta la caldaia fatto che lo catapulterà all'istante nel luogo dove catturò Genke qualcosa di sensato dopo tante scene e risate vuote finalmente Lucas trova Genke e la moglie a così inizio un confronto fin troppo concreto da una parte abbiamo un comune essere umano e dall'altra una specie di spettro dotato di mirabolanti poteri e si azzuffano alla pari e le incoerenze fioccano che è una bellezza e anche i cliché abbondano che è un piacere cioè scene viste riviste come il cattivo che sembra morto ma non lo è oppure uno dei miei preferiti l'inseguimento lento da una parte abbiamo Lucas e consorte che fuggono come se non ci fossero domani e dall'altra Genke che cammina rilassato ma ogni horrorofilo sa che nei film horror le comuni regole dello spazio e del tempo non si applicano non importa se cammina se gattona se è senza gambe o se è congelato in un blocco di ghiaccio in un inseguimento il cattivo riuscirà sempre a raggiungere se non a precedere le sue prede ed è quello che accade solo che in questa occasione Genke commette un errore forzatissimo subendo una scossa non indifferente ed ora il nonsense i tre si ritrovano a casa quindi Lucas afferra la pistola e uccide definitivamente il killer benvenuti alla nuova puntata di risolvendo l'orrore dunque prendete carta e penna e cercate di risolvere il seguente enigma il corpo di Genke era all'obitorio mentre Lucas stava combattendo contro lo spirito della sua nemesi dell'assassino la domanda è cosa c'è steso sul tappeto di Lucas? le risposte A un falso Genke poiché quello vero è all'obitorio B il vero Genke quello all'obitorio è sempre stato un falso C il clone di Genke D Genke e basta E il nuovo fidanzato della figlia di Lucas F la vera figlia di Lucas mentre l'altra è in realtà Genke inviate la vostra risposta via mail a lacasa7 chiocciola incoerenze punto it e potrete vincere una fantastica riproduzione della mannaia usata da Genke questa angosciante domanda viene nascosta da un finale quasi disneyano dove osserviamo la famiglia felice gatto compreso mentre si prepara a traslocare titoli di coda il particolare che mi ha colpito di più della casa7 è la continua presenza di elementi che richiamano film di Wes Craven in particolare sotto shock dove il protagonista viene perseguitato dallo spirito di un assassino condotto alla sedia elettrica e c'è bisogno di dirlo? Nightmare Genke e Freddy Krueger hanno molte caratteristiche in comune entrambi interagiscono col mondo reale da un'altra dimensione entrambi fanno impazzire i personaggi con sogni e apparizioni improvvise entrambi sono cattivi fino al midollo senza una vera e propria ragione entrambi devono essere portati nel mondo reale per morire definitivamente entrambi sono in qualche modo collegati dalla figura di una caldaia insomma qui si è scopiazzato di brutto ma passiamo a qualche considerazione più tecnica la recitazione di Henriksen è deludente l'attore praticamente è monoespressivo per tutto il film e ha dato prova in altri titoli di essere capace di dare molto di più invece c'è una nota di merito per Brian James ovvero Genke che devo dire ha dato una prova efficace e soddisfacente peccato solo per le risatine ridoppiate considerando che la casa 7 è un film del 1989 gli effetti speciali sono ben fatti altra critica alla sceneggiatura ci sono scene e sottotrame completamente inutili come non so le sedute dallo psicologo del protagonista oppure le birbonate per corrispondenza truffaldine di suo figlio passaggi che ho volutamente omesso perché beh inutili l'ho detto no? ultima mannaiata i cliché questo film è un minestrone di cliché qualità tipica delle pellicole che vengono messe in piedi pensando più al profitto che al come sorprendiamo gli spettatori e di certo non è una qualità apprezzabile che dire la casa 7 è un filmettino fine anni 80 dotata di un gran cattivo ma affossata da una sceneggiatura mal scopiazzata e farcita di cliché da un protagonista poco convincente da scene inutili da soluzioni sbrigative e poco chiare insomma da tanti piccoli difetti che rendono il tutto meno termine da prendere con le pinze credibile in giro c'è molto di peggio ma questo non basta elevare la pellicola al grado di must see diciamo che lo consiglio a chi adora l'atmosfera anni 80 ha visto un po' di tutto e non ha proprio niente di meglio da guardare il canale che volevo consigliarvi a questo giro è quello di Gian Kiki ovvero un altro youtuber che si occupa di recensioni cinematografiche non si tratta di uno stroncatore ironico bensì di un appassionato cinefilo dotato di aprite bene le orecchie ottimo gusto Gian Kiki fornisce delle opinioni più che condivisibili su film di qualsiasi genere pur non nascondendo una certa predilizione per l'horror non è mai dispersivo e riesce sempre ad illustrare perché quel determinato film merita una visione insomma è come una guida tv ma più affidabile trovate il link al canale di Gian Kiki qui sotto nella descrizione del video bene non mi rimane che lasciarvi ai voti della casa 7 appuntamento al prossimo video non avete idea di cosa vi aspetta di cosa rispida di cosa in